Mamma, mamma stai bene? Sei tutta intera. Sto bene, sto bene, sto bene. Voi chi siete? Chi siete voi per farci questo? Chi siete? Vieni, vieni qui. Calmati, ragazzo. Tua madre ha preso in prestito dei soldi dalla nostra azienda. Che cosa volete? Quanto ci è dovuto? Prima ripagateci i danni. Lui, vieni qui. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Grazie a tutti.